Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Grido di aiuto di Coldiretti ancora in piazza a Palermo per chiedere interventi contro la crisi idrica, denunciata anche l'invasione dei cinghiali. Ortaggi, frutta e miele a rischio per la siccità, seconda puntata della nostra inchiesta nella Piana di Catania, danni a tutta la filiera. Droghe cellulari portate nel carcere di Enna con i droni, blitz della polizia con 13 arresti. Le tariffe per consegnare nelle celle arrivavano fino a 2.500 euro per un panco. Riapre dopo 12 anni il viadotto ritiro a Messina. Ci vorranno ancora una decina di giorni per liberare le gallerie dai cantieri e porre fine al calvario degli automobilisti. A un mese dalla pioggia di cenere a Catania i sacchetti con la sabbia lavica sono ancora davanti ai portoni. Lo spazzamento meccanico continuerà fino al 3 agosto. A Palermo doppi i turni degli operai rap per fronteggiare l'emergenza ai rifiuti. Al lavoro in strada anche i dipendenti di officine ed uffici. Calciomercato, il Palermo pronto ad acquistare all'esterno francese a Poix. Il Catania è vicino alla cessione di Welbeck alla Lucchese, mentre a Messina i tifosi diserteranno le partite casalinte. Col diretti ancora in piazza davanti alla sede del governo regionale. Hanno trascorso la notte in tende e chiedono misure urgenti per fronteggiare la siccità. Marco Gullà. Non se ne andranno fin quando non avranno risposte concrete ed esaustive alle loro richieste. Gli agricoltori della Col diretti invadono piazza Indipendenza a Palermo. Hanno trascorso la prima notte davanti alla sede del governo regionale. Tende qualche sorriso di speranza e un continuo grido d'aiuto per fronteggiare alcune emergenze come quella della siccità. Ovviamente è un tema importante che richiede un impegno da parte di tutti efficiente, non solo per distribuire in maniera corretta la poca acqua che abbiamo a disposizione, ma soprattutto per pianificare quelli che sono gli interventi che andranno fatte da qua ai prossimi anni. Misure immediate anche per fronteggiare l'invasione dei cinghiali che distruggono i raccolti degli agricoltori. Oggi siamo qui anche per definitivamente capire come possiamo limitare i danni dalla fauna selvatica. Prima tra tutti i cinghiali che stanno distruggendo intere coltivazioni di molti agricoltori siciliani. Non può un agricoltore esaminare del grano e poi vederselo distruggere o buttare a terra dalla presenza di questi suinidi che praticamente distruggono tutto quello che trovano nel loro passaggio. Non li scoraggia nemmeno il forte caldo, gli agricoltori e i produttori rimarranno in piazza ad oltranza. E andiamo a vedere cosa succede nelle campane dopo gli agrumi. Tocca gli ortaggi e le olive al miele a soffrire per la mancanza d'acqua. Continua la nostra inchiesta sui danni a causa della siccità nella Piana di Catania. Orazio Longo. Disastro. Oltre a non avere più acqua abbiamo dovuto decidere di abbandonare una serie di coltivazioni quali per esempio le albicocche. C'è un problema grosso anche con i carciofi. Qui abbiamo un'azienda di circa 20 ettari di carciofo con le spese effettuate già l'anno scorso che quest'anno rimarrà incolta. Non di solo agrumi vive la Piana di Catania. Tra le produzioni importanti anche carciofi, albicocchi e ortaggi in genere. Tutte in grande sofferenza. Vittime predestinate di una crisi idrica epocale che però non è, come già sottolineato da molti, solo colpa del caldo e del sole. Ma purtroppo il risultato di anni e anni di una gestione non adeguata degli impianti di irrigazione che sono sempre più vetusti e malfunzionanti. Eccoli gli invasi visti dall'alto. Un'immagine che parla da sola. Il contatore dei metri cubi utilizzabili di acqua è fermo a zero. La produzione delle olive è al minimo storico, dopo due anni già di grande difficoltà. Il settore miele è letteralmente in ginocchio, le angurie sono poche, gli unici a non soffrire sono i fichi d'India. Tutto il resto è arsura, grave, immensa, che colpisce i coltivatori ma anche l'intera filiera. Non può tutto il comparto commerciale soffere, perché ovviamente gli agricoltori non solo non hanno l'acqua, ma non hanno anche la forza economica per poter comprare ovviamente la parte sia per la difesa che anche per la nutrizione delle piante. A livello commerciale ci sarà un prodotto più piccolo, che mancherà sicuramente sulle tavole degli italiani, queste aziende che non riescono a mantenere i propri dipendenti con la mano d'opera. Danni enormi e previsioni nere con l'intero comparto che adesso chiede aiuto. Per chi ha perso gli agrumeti, per chi ha perso gli ortaggi, per chi perderà le olive, noi aspettiamo e ci attendiamo degli interventi veramente importanti. Sintomo della siccità che colpisce l'isola e anche il prosciugamento dei laghi, oggi il blitz di lega ambiente nel lago di Pergusa. Giussi Lazzara. Blitz di Goletta dei laghi di lega ambiente nel lago di Pergusa, in una Sicilia flagellata dalla siccità per denunciare al governo e alle istituzioni che quanto sta accadendo è l'ennesima cronaca di un'emergenza annunciata, rimasta inascoltata. L'Italia ha bisogno di una governance più efficace, dice lega ambiente, attenta e circolare dell'acqua. In questo momento la condizione del lago è praticamente della crisi totale. Quello che rimane è una enorme piastra di sale cotta dal sole. Sono scomparse tutte le specie della vifauna. La colpa della crisi è imputabile ovviamente al cambiamento climatico, ma anche a una enorme e gravissima disattenzione da parte di chi avrebbe dovuto aiutare il lago a affrontarlo. Il cambiamento climatico, mancata pulizia dei canaloni, presenza dell'autodromo che interferisce con l'ecologia del territorio. Così lega ambiente laghi dice basta a soluzioni tampone con le ordinanze di razionamento dell'acqua, le trivellazioni di nuovi pozzi, il ricorso a nuovi dissalatori e invasi. Bisogna puntare invece a investimenti per l'ammodernamento della rete, il completamento delle opere mai finite come i depuratori e le reti fognarie. E l'Associazione Ambientalista quest'anno per la siccità non è riuscita a fare i suoi tradizionali campionamenti per monitorare lo stato di salute delle acque dei laghi Soprano e di Piana degli Albanesi, oltre che di Pergusa. Il caldo continua, bollettino rosso oggi per rischio incendi nella provincia di Caltanissetta e per ondate di calore nella provincia di Palermo dove è prevista una temperatura massima percepita di 37 gradi, 36 su Messina, 39 su Catania. L'allerta invece è arancione per rischio incendi su tutto il resto dell'isola. E siamo adesso alla cronaca, droga e telefonini arrivavano nel carcere di Enna con i droni, blitz della polizia con 13 arresti, c'era anche un tariffario per consegnare nelle celle con tariffe fino a 2.500 euro. La droga e i telefoni cellulari arrivavano in carcere con un drone telecomandato dall'esterno. Cocaina, hashish e microtelefoni facilmente nascondibili entravano nella casa di reclusione di Enna. Il trasporto andava avanti da mesi. Lo hanno scoperto gli investigatori della squadra mobile e della polizia penitenziaria coordinate dalla procura di Enna e dalla procura per i minorenni di Caltanissetta. 13 gli arrestati, quasi tutti catanesi, indagato anche un minorenne per traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Collaudato il trasporto. Durante la notte i fornitori, stazionando nelle via di accenti al carcere, legavano con una corda delle buste contenenti droga e telefoni e dopo aver fatto alzare in volo il drone, lo guidavano fino alle finestre delle celle con i detenuti pronti ad allungare le braccia dalla finestra per recuperare il materiale. Il primo blitz, la notte del 4 ottobre del 2023, quando i poliziotti hanno fermato due catanesi e sequestrato due droni. Le indagini hanno portato alla luce un vero e proprio tariffario da parte del gruppo criminale che per consegnare la droga ai cellulari nelle carceri chiedeva 2.500 euro per un pacco e fino a 3.500 euro per la consegna di due pacchi. Perquisita l'abitazione di Enna, della moglie di un detenuto, dove sono stati sequestrati microtelefoni, cocaina e hashish destinati al marito recluso. Si tuffa in acqua e si avvinghia palpeggiandola ad una quindicenne che faceva il bagno. La ragazza in vacanza con la famiglia Marina di Ragusa è riuscita a divincolarsi e a scappare. L'uomo, un tunisino, è stato arrestato per violenza sessuale aggravata. Avrebbe compiuto nove rapine in pochi mesi fra Paternò e Santa Maria di Licodia, ma anche a Catania. A tradirlo è stato un tatuaggio sul collo. arrestato Mirko Natale Fusco, che tra gennaio e maggio scorso avrebbe effettuato con cadenza quasi bisettimanale rapine soprattutto a distributori di carburanti e supermercati. Il rapinatore agiva con lo stesso modus operandi, come vedete in queste immagini, armato di coltello o di pistola. Bottino medio circa 400 euro, ma in una gioielleria si era impossessato di gioielli per un valore di oltre 100 mila euro. Consegnava droga a domicilio sullo scooter spacciandosi per un rider con tanto di zaino in spalla. Gli agenti hanno però accertato che non consegnava alimenti e che lo zaino era solamente una copertura. Arrestato l'uomo che aveva 12 grammi di droga tra cocaina e MDMA. A Messina è inaugurato oggi il viadotto Ritiro, che riapre al transito dopo ben 12 anni, ma ci vorranno ancora una decina di giorni per liberare le gallerie dai cantieri. Francesco Triolo. Un tratto di tangenziale atteso 12 anni, 7 anni di cantieri, lavori che hanno reso soprattutto le stati dei messinesi e dei turisti autentici calvari per raggiungere la riviera tirrenica. Riapre il viadotto Ritiro a Messina. Un'inaugurazione in sordina, questa mattina senza il Presidente della Regione Renato Schifani, bloccato a Palermo, ma che darà finalmente una viabilità fluida. Oggi è uno dei tanti cantieri che stiamo monitorando già da 20 mesi dall'insediamento del Presidente della Regione e del suo governo sparsi in tutta la Sicilia. Riteniamo che questo sia stato un grande passo avanti. Sappiamo dei ritardi che hanno contraddistinto quest'opera, ma dovevamo mettere un punto. Oggi mettiamo un punto perché oggi si apre il viadotto già dalle 15, ma poi già nei prossimi due giorni verrà aperta anche la galleria e nelle prossime ore si avvieranno i lavori per rifare la soletta dell'altro senso di marcia in maniera tale che già da giorno 9 saranno aperte entrambe le carreggiate su due corsie ciascuno. Per dire addio alle code, infatti dovranno concludersi anche i lavori sulle gallerie telegrafo per poterle riaprire con due corsie per senso di marcia, dal 2 agosto in direzione Catania, dal 9 agosto in direzione Palermo, una decina di giorni ancora per rendere quel tratto di strada libero da ogni cantiere. Ma in molti oggi hanno sottolineato che non può essere una festa perché 12 anni, sono tanti, troppi e i disagi sono stati interminabili, così come le code. La polizia stradale di Giardini Naxos ha accertato alcune irregolarità in un cantiere all'altezza dello svincolo di Giarre sulla A18, la Messina Catania, notificata una sanzione di 1.700 euro e l'immediata sospensione delle attività. E torniamo a Catania dove prosegue la raccolta di cenere nei vari quartieri, troviamo i sacchetti ancora davanti ai portoni, intanto il comune prolunga il piano di spazzamento meccanizzato. Roberta Lunghi. È una città a macchia di leopardo, Catania, i quartieri presentano un'immagine diversa, a seconda di quanto a cenere ricopra strade, piazze, marciapiedi o di quanto i sacchetti di polvere nera raccolti dai cittadini stazionino davanti ai portoni di casa. Il nostro tour inizia dal quartiere di Canalicchio, cartolina di un luogo dove lo spazzamento meccanizzato non è stato pianificato. Parlando con gli uffici competenti hanno dato priorità al centro, quindi anche a Picanello, per fare in un secondo momento la zona di Canalicchio, Barriera, Carrubo e Villaggio D'Usmett. Ci spostiamo laddove ieri l'immagine era questa. Quella che state vedendo è Piazza Bovio ieri. Oggi siamo tornati all'indomani della pulizia prevista, che peraltro comprendeva anche la necessità di spostare le auto, come si legge appunto in questo cartello affisso in un palo. Siamo ritornati proprio per vedere come è andata. Le strade che prima erano ricoperte risultano onestamente pulite, ma molte auto in sosta non sono state rimosse. Il risultato è questo tappeto di multe su questo lato della strada, mentre sull'altro ci riferiscono che le auto sono state portate via. E se molte di queste strade onestamente presentano un aspetto pulito rispetto alla cenere, ciò che non è accaduto invece è la pulizia di questa piazzola e anche di questa fontana, desolatamente senza acqua, ma con tanta cenere. E poi ci sono luoghi come questi. Siamo tornati a Picanello, dove c'è di tutto. C'è la terra sui marciapiedi, c'è la terra sulle strade, e ci sono i sacchetti, tanti, tantissimi, di cenere vulcanica che si mischiano anche a rifiuti. Dove si deve buttare? Tutta questa terra che c'è in giro. Uno cerca di essere civile, ma civile non si può fare a Catania. Il piano di spazzamento automatizzato si arricchisce di un appendice rispetto al primo calendario, nonostante il valore dei macchinari utilizzati sia pesantemente messo in discussione da tanti cittadini che abbiamo intervistato. Aspirano da un lato e la buttano dall'altro lato. L'ultima data al momento è la notte tra il 2 e il 3 agosto, con in calendario anche l'importante arteria di Via Passo Gravina. E dall'emergenza cenere di Catania all'emergenza rifiuti a Palermo, dove la RAP prevede di dirottare tutti i dipendenti in strada per affrontare l'emergenza, anche chi lavora in ufficio e in officina. All in per ripulire Palermo. E il piano della RAP, che assieme all'amministrazione comunale lavora su ogni aspetto per accogliere tutta l'immondizia che da settimane invade strade e quartieri del capoluogo. Anche oggi la città si presenta così, ma la RAP prova a fronteggiare l'emergenza in qualsiasi modo. Innanzitutto con i doppi turni, sono stati infatti trovati i fondi, e poi con una mossa che è anche una sorta di ultima spiaggia, ovvero mandare in strada anche alcuni dipendenti dislocati in altre attività, compresi uffici e officina. Insomma, chi sta in ufficio deve mettersi a disposizione dell'azienda e aiutare gli operai nella raccolta dell'immondizia. La previsione del presidente della RAP, Giuseppe Todaro, è di un impiego massiccio di uomini e mezzi per fare rientrare l'emergenza in città, a partire anche dal ricorso alle ditte di privati. Nel frattempo sono ancora numerose a Palermo le strade trasformate in discariche. Per tutta la notte i vigili del fuoco sono stati impegnati nello spegnimento di roghi di spazzatura cadastrata lungo le strade in alcuni punti della priferia, fino a coprire lo spazio della carreggiata. Emergenza sull'emergenza, in un'estate calda su tutti i fronti. È stata convocata per domani in procura a Roma Rosanna Natoli, consigliere del CSM, ex componente della sezione disciplinare, indagata per rivelazione di segreti d'ufficio e abuso d'ufficio. Il procedimento è stato avviato dopo la registrazione di un suo incontro con il magistrato Maria Fascetto Sivillo. Tutti i numeri dell'Assemblea regionale siciliana alla cerimonia tradizionale del ventaglio tra la stampa e il presidente dell'Arsa Gaetano Galvagno. Ecco i dati, 225 disegni di legge assegnati contro i 271 della passata legislatura. Il totale delle leggi approvate è di 37 più due leggi voto. Si assiste ad una riduzione delle leggi impugnate. Nel primo anno della legislatura, a fronte di 11 leggi approvate, solo una è stata impugnata. Ci auguriamo di poter continuare. ha concluso Galvagno e l'aula sarà aperta fino al 7 agosto. Ci fermiamo, adesso c'è una pausa per la pubblicità. Torniamo tra poco con altre notizie. Adesso andiamo ad Agrigento per la rassegna letteraria. Agrigento Noir, il festival del giallo. Davide Sardo. Agrigento si tinge di giallo nel successo della quarta edizione del festival del giallo Agrigento Noir, una rassegna letteraria attesa e coinvolgente organizzata dalla libreria Il Mercante di Libri. La location è il centro storico della città dei Templi, piazza Ravanosella, da poco riqualificata e rilanciata dall'amministrazione Miciche. Viviamo in un'epoca in cui c'è bisogno di avere una giustizia sociale e i gialli ce la danno. Leggiamo delle storie dove abbiamo un crimine si svolge un'intagine e alla fine il colpevole viene affidato alla giustizia. Ecco, questo ci tranquillizza perché purtroppo nella realtà non sempre è così. Quindi ci piace identificarci dalla parte dei buoni. Il genere Noir credo che sia uno dei generi principe che riesce a suscitare e a stimolare il cervello umano perché il Noir ti porta alla continua ricerca, è una ricerca sempre del colpevole, la ricerca del personaggio, la ricerca di chi ha compiuto cosa. Ospiti di Agrigento Noir, Salvo Toscano, Gaspari Grammatico e Fabio Mundadori, ma anche Eleonora Carta, Gaetano Savatteri e Ciro Auriemma per un evento che anima il panorama culturale e artistico della prossima capitale della cultura 2025. Un itinerante off dell'Alcantara Fest che aprirebbe attenti con una festa greca e green. Cibo a chilometro zero, stoviglie riciclabili o compostabili bici elettriche, un'esperienza immersiva attraverso laboratori di yoga, danze popolari, canto, escursione e bike trail. L'Alcantara Fest, giunto alla ventesima edizione e conclusa sia a Pisano di Zafferano etnea nel catanese, fa del green una chiave di lettura fondamentale nella proposta musicale che va dal folk alla world music anche per la sezione off che vedrà dal 30 luglio al 2 agosto artisti esibirsi in modo itinerante tra Catania e il pedemontano etneo. Ad aprire gli eventi sarà la festa greca con un workshop di danze greche a Via Grande e un concerto alle 21. Festa di Santa Catà d'estate, questo è l'argomento dell'appuntamento di oggi di Sicilia 24 Focus, alle 14.30 su Telecolor, le celebrazioni e gli appuntamenti di agosto, tutte le novità dell'edizione 2024 che proiettano Catania all'anno santo. Ospite di Adelaide Barbagallo e il parroco della cattedrale, Monsignor Barbaro Scionti. Potete inviare le vostre domande al 342-745-5005 e la trasmissione è in streaming sul sito la sicilaweb.it Ci fermiamo adesso, c'è una pausa e poi torniamo con tutte le novità di Calcio Mercato. Eccoci alla Calcio Mercato, il prossimo acquisto del Palermo sarà all'esterno francese a Pua, il Catania è vicino alla cessione di Welbeck, mentre a Messina i tifosi diserteranno le partite casalinghe. Sergio Colosi Il Palermo costruisce il puzzle per una grande stagione. Accade così che Brunori, da separato in casa, diventa l'uomo copertina di una squadra che scopre valori tecnici ma anche umani. Per l'esterno ventenne a Pua c'è l'accordo col Nant sulla base di 2 milioni di euro. Prima dell'annuncio visite mediche e firma. In uscita nel Cearo è seguito dalla Salernitana, mentre per Damiani, Asta tra Pescara e Foggia. Indosserà l'abito di sicuro protagonista anche il Catania, che lavora su più fronti in attesa dell'ultimo test con il Pinedo di Mirko Cudini. In cima alla lista degli obiettivi Guido Gomez, 28 gol negli ultimi due anni a Crotone, e Davide Merola, che mentre cura la pubalgia sogna quella B, che potrebbe raggiungere sul campo con il club rossazzurro. L'Escano verso la conferma a Trieste, per Redani in corsa anche l'Avellino. Sul fronte cessioni, la Lucchese, dopo avere quasi definito l'arrivo di Welbeck, segue anche Rocco Costantino. Il Ponte d'Era ha offerto un triennale alla Dinetti. Della cordata americana non c'è più tracce, la crisi societaria del Messina si acuisce. Mentre il ritiro Modica allena un gruppo troppo giovane e per nulla competitivo, i club organizzati annunciano la decisione di non seguire le gare al Franco Scoglio. In casa Trapani il tecnico Torrisi lavora per assemblare un organico quasi interamente stravolto, del quale non fa più parte la punta Marsico. Per lui viaggio di andata e ritorno in serie D, preso dall'Ocri, girato in prestito all'Andrea. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio adesso al nostro focus dedicato alla festa di Sant'Agata d'estate. Grazie per averci seguito, l'informazione torna alle 19. A tutti un buon pomeriggio.